Veline è un'assoluta menzogna, una calunnia. Abbiamo fatto un corso presso il nostro partito, il Popolo della Libertà, di persone che si sono iscritte, che avevano lauree con almeno il 30 su 30 di voto, che dovevano conoscere diverse lingue per indirizzarle a fare le assistenti per i nostri candidati che sarebbero stati eletti alle elezioni europee. Oh, no, no, tolga la mano dal naso. C'è del tessuto erettile lì. Ci prude quando nascondiamo qualcosa.